Ciao a tutti, eccoci qua, ha un nuovo gameplay, si chiama Pokémon Rubino, il primo, però anni fa siamo qua sempre con Pika Fakir, 92. Ciao a tutti, eccoci qua. Questo gioco io e lei l'avremmo fatto non so quante volte, io poi in particolare. Io l'ho fatto, sul Game Boy ho superato le mille ore di gioia, ecco, io vi dico solo questo, c'è ancora, perché le cartucce del Game Boy Advance, a differenza di quelle del primo Game Boy, non si resettano, quindi la partita c'è ancora, è andato col paese tutto ciò che ha a che fare con l'orologio, ma amen, rimba, siamo fine, io vi invito, già che è butta fuori questa cosa, a guardare su Facebook un po' di quei link che prendono in giro il Professor Wack che vi chiede se siete una femmina, perché sono la fine del mondo. Vai, quale scegliamo? Teresa, vai, a te. Ok. Signa? Ricordiamo che qui siamo in un mondo dove a 10 anni avete qualsiasi possibilità di fare qualsiasi cosa, niente, è la maggiore età, sembrano poi di poco. Adesso partiamo col trasloco. Esatto, sì, 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 c'è il trasloco in una nuova città. Io ricordo, anche qui, una presa in giro, non vi ricordo vista dove che diceva, cioè il vostro unico figlio lo fate viaggiare in mezzo agli scatoloni nel campo, perfetto. Ok, sì, ok. Il trasloco, giustamente, il sistema di tv, quanto pare, controlla che funzioni. Sì, andiamo a regolarlo. Ma ciò che va avanti e indietro, senza meta, io non lo so. Giustamente. Allora, qua il mio audio rollare va alle 11.49, cioè alle 11.50. Sì, esatto. Arriva la mamma. Sì, ci piace, dato non ci verremo mai qui. Io non fanno quasi mia venduta a casa, se non per chiedere soldi. Io qualcosina sì, anche a decorarla, perché sono i bagliati che si può decorare, vero? Esatto, sì. Vorrei fare gaff. Cosa forse, via papà? No, non lo vediamo, papà? Sì, mi sembra che era appena prima e ce lo perdiamo. Sì, esatto. Via con gli spoiler, perché tanto è il nostro mestiere. Esatto. Il nostro papà è uno dei capopalestra, se mi sbaglio, il quinto. Quinto, esatto. Se non ti so, cavolate. Che memoria. Ma sto andando a memoria, eh. Non ricordo... Cioè, non ho letto, non mi sono informata. Non ho letto, non ho letto, non ho letto, non ho letto. Dobbiamo andare a... Sì, scusate, veramente veloce. Ma andiamo a casa del vicino, scusate. Ah, perché è già l'altra cosa bellissima di questo gioco, che voi potete entrare nelle case tutte. Esatto. Esattamente, in questo gioco la violazione di domicilio non esiste. Esatto. Quindi questo è questa cosa. Qua ci chiederai la tassa di un miliardo, un milione di... Ti ricordi? Sì? Sì, era qua, solo sbaglio. Era qua? Non sai, sì. Oh, è quello dopo, non mi ricordo più. No, è quello dopo. Che io ho solo iniziato, non ho mai portato a ferro. Esatto, sì. Scusate, ma perché ce l'ho io, mi ricordo. Ok. È il coscemo che io ho chiamato Renato. Sì, va bene. Ok. Ok, mia... Ma io è necessariamente affitta da andare lui. Esatto. E poi c'è il nostro primo Pokémon. C'è abbiamo Torchic. Trico, erba. Torchic, fuoco. E Matki, acqua. Quale segnale? Io opterei per Matki. Ok. Perché soprattutto più avanti, quando si volverà, si rivelerà una scelta vincente. Esatto. Molte alternative. E' ruggito. Ok. Non lo fai. Certo. 15 minuti. Eh viva! Ok. Ok. Ecco. Questo qui è portato di poco. Ah, sì. i giochi avevano abbandonato il marsupio giustamente si ok ok e ricevo madcap è vero anche qua i nomi ma non volevo darglielo vai no aspetta anche qua la pronuncia non è esatta però come non pronuncia e magari hanno sai che anche nei film e nei cartoni continuano a cambiare solo la traduzione di un nome però mi ha chiesto di andare a cercare esatto